mi han detto di tenere sulla faccia non sulla moto ma perché avete paura? ascolta l'allarvi l'attimo che arrivi qua non è per forte basta che vai qua e la lasci correre giù lenta lenta te la chiude via comunque ma va devi lasciarla correre questa qua non continuare a fermarti 5 lasciala andare quello non lo faccio fallo piano appoggiati piano bravo lasciarla correre giù scasco di là di là rifa la tuta le scarpe sono state no ma non faccio i salti giro e basta non faccio i sassi non faccio i sassi chiedisco k